togliamo questa anche se può la neve aiuto però sono un po' più ok buongiorno a tutti scusate la faccia veramente sto indecente ma sono le otto e mezza di sera sono appena tornata al lavoro sono stremata però ci tenevo a fare questo video in virtù del fatto che il primo dicembre ci sarà online la nuova collezione di nabla la gold dust e siccome me l'hanno mandata in anteprima io già vi ho fatto un live su facebook quindi seguitevi anche sugli altri social in modo che io possa interagire anche più velocemente con voi dicevo visto che dal primo ci saranno sconti sicuramente particolari sul loro sito e sarà comunque online questa nuova collezione volevo farvi vedere l'intera collezione quindi sbocciandovela il look che ho realizzato stamattina alle 8 e vi ripeto sono le 8 e 20 di sera quindi è ancora tutto intatto ho semplicemente incipriato il viso con la cipria la nuova cipria compatta di neve cosmetics questo è il look che ho realizzato a stamattina con il primer della urbandy che il primer potion che uso sempre vedete che ho fatto questa sorta di onda e poi ho fatto il doppio eyeliner cioè ho messo questo eyeliner oro che è pazzesco stamattina mi hanno fatto i complimenti un sacco di persone e all'attaccatura ho messo un po di matita verde proprio per dare un tocco in più sulle labbra invece ho bye bye beardy che è l'unico rossetto più nude della linea io volevo applicare con voi il fard cioè da un lato un fard e dall'altro perché da stamattina vedete che è andato via fondamentalmente questo è harner ed è il blush più chiaro di questa collezione che ho applicato stamattina infatti lo vedete nel trucco del giorno su instagram e su facebook quindi fotograficamente questo qua e poi abbiamo questo bellissimo malva satellite of love che è veramente molto particolare molto pigmentato salutate giordino ciao giordino scarico perché è la prima volta che lo applico quindi non lo so d'usare che cos'è cioè guardate quanto è pigmentato pazzesco diciamo che è un po fortino ok questo è quello naturale questo è quello più forte e in linea generale mi piacciono entrambi però questo qui in particolare è un fard particolare una cosa da dire è sicuramente cioè bisogna applicarne di meno io essendo la prima volta che lo applicavo ne ho messo un po troppo ok vabbè non facciamo finta di niente quindi questi sono i due blush poi da come avete visto sicuramente online dall'anteprima e tutto ha fatto tantissimi ombretti e io ho messo in questa palette pazzesca veramente spettacolare ne ho messi sei qui e due le ho lasciati nella loro confezione originale perché perché effettivamente poi hanno fatto anche quest'altra palette anche questa pazzesca mi ricorda un po lo stile che adesso si sta vedendo molto in giro con i fenicotteri non so voi che dite si è un po quello stile stamattina ho usato il più chiaro luna su tutta la palpebra mobile ed ho sfumato nella piega questo diciamo rosso che si chiama ludwig che è un rosso terracotta molto particolare e sull'altra parte della palpebra mobile ho utilizzato absinthe che sarebbe questo colore con i riflessi verdi che ricorda molto mela stregata di neve cosmetics però io vi voglio far vedere entrambi come sono allora questa è mela stregata di neve cosmetics e questo invece è l'ombretto nuovo di nabla della collezione anche la texture sembra molto simile tra i due vedete anche come riflesso un altro ombretto che somiglia molto a quella tipologia è quest'altro vedete che anche questo ci ha i stessi riflessi che si chiama glasswork solo che questo qui è una di quelle tipologie che abbiamo già rivisto in nabla lo scorso natale per la prima volta ossia quello la glitterato che va benissimo su qualsiasi tipo di ombretto per dare quell'iridescenza particolare effetto bagnato quindi questo qui è un ombretto a sé è un ombretto particolare da addizionale da addizionale da addizionale da addizionare ad altri ombretti altro ombretto è quest'altro questo qui è veramente pazzesco mi piace tantissimo paprika mi piace perché perché è un colore che riscalda qualsiasi tipo di makeup veramente secondo me è spettacolare l'ho usato anche stamattina molto pigmentato e mi ricorda un po' desert di neve cosmetics che è in polvere quindi che se non sbaglio hanno tolto dal sito attenzione attenzione poi sembrava natale cioè ieri a quando è arrivato tutto cioè ieri era arrivato il pomeriggio il pacco ma io ero fuori al lavoro e sono andata a prenderlo a casa della vicina e ve lo giuro io stavo così sono stata così per un'ora cioè non potevo crederci prima di tutto che mi avevano mandato tutto e poi perché è tutto meravigliosamente stupendo ed è penso la mia collezione preferita fino adesso ritornando a noi l'altro pacco che è arrivato è stato questo che contiene cinque rossetti della collezione con il pack dorato rispetto ai diva crime classici la tagliettina dove c'è scritto influencers ediction cioè guardate veramente hanno pensato a tutto e questo qui che è il pezzo forte che è l'eyeliner è l'eyeliner oro che ho da stamattina e adesso ve lo faccio vedere più da vicino ma è un eyeliner particolare perché riflessi rosa cioè veramente molto particolare ultimo prodotto di questa collezione è questo cream shadow che si chiama dusk che è questo albicocca con riflessi oro in rosa che anche questo veramente non sembra male io sto ancora testando quelli della vecchia collezione paradise cioè li ho provati un po tutti quindi già un'idea me la sono fatta e sicuramente ve ne parlerò nei video a seguire perché se mi sta seguirete questo dicembre scoprirete che ogni giorno ci sarà un mio video online se riesco a puntare video entro stasera monterò questo cioè è proprio una corsa contro il tempo quindi vi prego apprezzate questo sforzo e seguitemi in tutto e per tutto mi rimangio che glasswork ha questi riflessi verdi perché ne ha talmente pochi che posso dire quasi che ha dei riflessi rosa e niente io spero che questo video vi sia stato d'aiuto anche se non è una vera e propria recensione è un video swatch però appunto magari vi fate un'idea già delle cose che avete delle cose che vi possono piacere di più e soprattutto che tengo un blush di un colore e un altro io vi do un grosso grosso bacio e ci vediamo domani con la rubrica di tutto il mese e niente fatemi sapere che cosa acquistate e come vi troverete ciao